In questo momento noi incontriamo delle persone che hanno delle storie ai confini della realtà. Abbiamo parlato con alcuni americani, abbiamo parlato con una rumena che ci hanno raccontato di vita extraterrestre, di incontri particolari nell'universo. Ma ci sono delle cose talvolta inspiegabili ma straordinariamente affascinanti che accadono dentro di noi, attorno a noi, indipendentemente da quello che c'è nell'universo. Su questa terra ci sono delle energie che talvolta se sprigionate permettono alle persone di poter fare cose incredibili. Una di esse è quella di poter, se non sbaglio, uscire dal proprio corpo, superare la forza di gravità, superare forse, non lo so cosa, forse lo spazio-tempo, non ne ho idea. E proprio di questo adesso ne parleremo con il più accreditato e il più importante personaggio per quello che riguarda questa determinata caratteristica. È un piacere per me potervi presentare il signor Carlo Biagio. Benvenuto. Allora, come dicevo poc'anzi ai telespettatori, c'è grande stima nei suoi confronti in tutti gli ambienti di sensitivi, di persone che trattano e che vivono queste determinate peculiarità.